Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato un 37enne residente a Battipaglia per violenza sessuale aggravata, atti persecutori e violazioni di domicilio aggravato. I fatti sarebbero stati commessi dal maggio 2017 in danno di due giovani vittime, di cui uno ancora minorenne all'epoca. L'uomo, grazie alla creazione di diversi profili social, è entrato in contatto con ragazzi giovanissimi, in un primo tempo carpendone la fiducia e instaurando relazioni di tipo sentimentale e sessuale, per poi mettere in atto nei loro confronti condotte di vera e propria violenza sessuale. A ciò si sono aggiunti atti persecutori attraverso appostamenti, pedinamenti, danneggiamenti, percosse e minacce.